Articoli sportivi dalle Filippine per un profitto di 3 milioni e 6. Sud Corea, abbigliamento maschile, come profitto siamo intorno al milione. Case prefabbricate e iniziative fondiarie. Stiamo creando un centro turistico in Messico, sfruttando la svalutazione. Questo noi produciamo, 8 volte di più di quando morì mio padre e 12 volte di più di quando tu lasciasti e io ho preso il timone. E la divisione automobili è l'unica a essere in perdita. Ecco perché alla fine del prossimo anno intendiamo eliminarla completamente. Dovrai passare sul mio cadavere. Come crederai più opportuno, nonno. Bobby, entra, sei un sogno. Ti aiuto a sbaracare. Le notizie vanno di corsa, eh? È vero? Sì, c'è una riunione in corso. O la spunta il vecchio o l'oram. No, grazie. Mi ha chiesto di sposarlo. Ah. La moglie che dice? Lui sta armeggiando per ottenere il divorzio. Delicatamente. Non sei neanche un po' geloso? Semmai il momento per me di essere geloso era a San Francisco. È stato bello a San Francisco. Mi sei mancato molto. Eppure avevi tante occupazioni.